Ciao Danilo, per il Superbonus dobbiamo anticipare tutti i costi noi? Dipende. Se ce li hai, conviene che utilizzi il tuo credito. Non andare a attivare una linea di credito con una banca che ti farà comunque pagare dei costi in più. È necessario anticipare tutti i costi? Quindi se trovi la soluzione con un istituto di credito che ti anticipa con un prestito, quindi con dei costi, il denaro che ti servirà per pagare il Superbonus, potresti non dover anticipare nulla. Ma sono situazioni molto rare. Di solito c'è sempre bisogno di un budget X, che può variare di molto, da qualche migliaio di euro, deve essere decine di migliaia di euro, un budget X da poter far girare in questo gioco di pago, maturo, cedo, rientro del credito. Difficile da condensare in modo così, non è risposta, ma dobbiamo anticipare, non è obbligatorio anticipare. Però il costo minore sicuramente è che se hai la disponibilità a te, è sicuramente la soluzione migliore. Paghi e rientri di tutto. Se cedi alla banca rientri del 100%. Invece se ti fai fare un credito o un conto dedicato per, c'hai dei costi in più, che magari verranno assorbiti, non verranno assorbiti, nella maggior parte dei casi un tot ti rimane a carico. Paghi e rientri di tutto.